In un periodo complesso come quello del Covid, che ha impegnato durante l'anno scolastico i servizi educativi del Comune di Fano, insieme ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e delle direzioni didattiche, nel superare tutte le difficoltà organizzative, normative e finanziarie che la pandemia ha portato con sé, si è cercato di dare una risposta anche al bisogno di socialità delle bambine e dei bambini, grazie ai progetti Rodare Andi in Città e Diritti al Futuro, che si sono conclusi con la fine dell'anno scolastico. Due progetti di drannatizzazione teatrale che quest'anno hanno coinvolto quasi 1500 bambini, 68 classi, 34 spettacoli, 49 repliche, coinvolgendo quattro istituti comprensivi e direzioni didattiche. I due progetti fa sapere l'assessore Mascarin, riprenderanno a partire da settembre ed accompagneranno decine di classi delle primarie fanesi fino alla fine dell'anno scolastico. La scuola è molto importante, ti permette di realizzare i tuoi sogni. Tu che cosa vuoi fare da grande? Due percorsi importanti che hanno accompagnato le bambine e i bambini delle scuole primarie della nostra città in questo anno difficile, complesso, segnato dal Covid, nel quale come Comune di Fanno abbiamo cercato, come servizi educativi, di salvaguardare anche appunto una dimensione di socialità, di attività ludica e ricreativa, ma anche un'attività funzionale ad accrescere la consapevolezza delle bambine e dei bambini, dell'importanza delle relazioni e anche dei propri diritti.